A me è successo ed è piaciuto anche ai lettori. A me è successo ed è piaciuto anche ai lettori. Mi pare che questo impegno sia abbastanza per me. Non si può pensare che la qualità letteraria dipenda dalla quantità degli scrittori. Piuttosto mi pare di poter dire che nella storia della letteratura le cosiddette periferie del mondo diano alla letteratura più dei centri. Generalmente in Finlandia la gente pensa che ora come membri dell'Unione Europea siamo più indipendenti rispetto a tutto il corso della storia della nostra nazione. Prima c'era il peso della Svezia, poi della Russia e dopo ancora la catena con l'Unione Sovietica. Adesso ci sentiamo davvero indipendenti. Il 17 ottobre del 1849 muore a Parigi, Frédéric Chopin, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. Genio musicale assoluto che incarnò anche nella vita tormentata l'estetica romantica, ci ha lasciato indimenticabili notturni, mazzurche, preludi e studi, oltre a due concerti per pianoforte e orchestra. Un viaggio attraverso le emozioni è quello percorso da Beniamino Sidoti, scrittore e saggista con questo stati d'animo. Un viaggio appunto, immaginato come fosse reale, come se il lettore attraversasse per davvero a piedi il suo io più profondo, con le sue sfumature e i suoi simboli quasi fossero luoghi meravigliosi da visitare. Noi le emozioni le attraversiamo, quindi ho voluto descriverle come delle cose che potessero trasformarsi e trasformarci, come un qualcosa che si passa, per cui dalla rabbia si passa alla solitudine o alla passione e così via. Questo mi ha portato a scrivere in una maniera particolare. Quello che ho cercato di fare attraverso la scrittura è di essere meno superficiale, cioè di rendere una narrazione più potente, con più simboli, con più cose, proprio perché le emozioni purtroppo ormai le abbiniamo quasi esclusivamente a una professione, che è quella dello psicologo, che è una professione importantissima, ma si occupa d'altro. Per tornare a parlare di emozioni ho voluto farlo con gli strumenti della narrazione, della letteratura.